Sai che puoi mettere al sicuro il valore dei tuoi risparmi nel tempo? Che esiste un investimento che ti protegge dall'aumento dei prezzi? Che c'è uno strumento utile a sostenere il tuo potere d'acquisto? BTP Italia è il titolo di Stato con rendimenti che aumentano al crescere dell'inflazione nazionale. Sottoscrivilo direttamente dal tuo home banking, oppure contatta la tua banca o il tuo ufficio postale. BTP Italia. Dai potere al tuo risparmio. BTP Italia.